Date un'occhiata a questa stupenda proprietà da Berry Plant. Non perdete l'occasione, questa bellissima casa potrebbe essere la vostra. Questa casa attraente offre un ampio soggiorno per distenderti e rilassarti. Una stupenda cucina funzionale che farà piacere ai cuochi della famiglia. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Godetevi le lunghe giornate estive al bordo della vostra piscina. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.